Le ultime due matasse per prendere le misure per le matasse di spunto, quello che dobbiamo fare, vediamo di quando le possiamo, le dobbiamo accorciare e c'è una regolata. Grazie. Grazie. Andiamo a questa proprio usata. Adesso mettiamo quello del pinto. Possiamo mettere quello di qua giù l'altro. Noi, c'è una mezzata uno. 3, 2, 5, 5, 4, 9, 8 ce lo ristanno, va bene, meglio abbondare. Siamo a schiacciare, schiacciare un po' la data. Ancora qua. Schiacciare pure quest'altra, quest'altro lato. Un po' il pezzo. Un po' il pezzo. Questa è la fase normale. Adesso andremo a costruire la fase di spunto, andiamo un po' a un gaccevino un pochettino più largo, prepariamo al passare bene bene La fase di spunto Vediamo, andiamo pure quest'altra parte, prepariamo, andiamo ancora con la pinta, sicuramente Andiamo 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 Grazie. 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 Ok. Va bene. Iniziamo a fare una tazza. Bene. Aspetta. Ok. Ci sono una ripresa più grande. Sotto. Così non dobbiamo fare lo scambio. Ci facciamo. Aspetta. Continua. Abbastanza. Seessata. Aspetta. Scambio suama. Dopo. Tempo. Grazie. 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 Grazie.